Nuovo appuntamento di Vinitalia dopo Verona e Vinitali, lì abbiamo incontrato e conosciuto le donne del vino che sono oltretutto nostri partner di progetto. Ci siamo resi conto di quanto questa sensibilità al femminile stia portando un contributo anche all'interno del mondo del vino. Oltre a muoversi a livello nazionale con circa 700 delegate, le donne del vino hanno un'anima anche che va ad esaltare le tipicità, le identità e un paese come l'Italia ha certo bisogno di fare sistema come Made in Italy ma ha bisogno anche di lavorare sul territorio rispetto a quelle che sono le tante identità, ognuna delle quali fanno certamente parte di quello che è il sistema Italia. Oggi siamo a Napoli per Vitigno Italia e ci siamo perché le donne del vino di questa regione sono molto attive, lo scorso anno sono partite con un'iniziativa che si chiama Sorsi di Lune che in qualche modo richiama il mondo al femminile e quest'anno è un anno particolare, ecco anche la nostra presenza, è l'anno dei 150 anni per l'unità d'Italia e quindi chiedo subito alla delegata regionale delle donne del vino ecco perché questa edizione è speciale e cosa avete cercato di aggiungere a quello che già era partito molto bene lo scorso anno. Grazie, sicuramente è una edizione particolare perché il focus sarà come sempre concentrato sulla tradizione e sulle qualità enogastronomiche della nostra terra, la Campania a riguardo ne ha sicuramente tante da raccontare, ma vorremmo con questa prossima edizione anche andare a concentrare l'attenzione sul ruolo della donna a partire dal 1861 ad andare avanti, quindi un ruolo che fino a quell'epoca era senza ombra di dubbio stato considerato marginale e la donna era sempre stata abituata ad agire nell'ombra e viceversa grazie proprio ai moti rivoluzionari del 1861 ha iniziato ad avere la possibilità di emergere e di far sentire anche la propria voce, quindi il desiderio è quello di concentrare il focus su quello che dalla unità d'Italia ad andare avanti la donna ha rappresentato. Chiaramente partner dell'evento saranno una serie di aziende o di attività che come noi mirano a sostenere la Campania di qualità e che vuole fare. Grazie, chiaramente fare cultura e fare sistema significa anche incrociare i diversi mondi che partecipano a questa parola importante che anche il Ministro in apertura a Verona ha richiamato, ha detto dovremmo tutti quanti ormai parlare di agricoltura piuttosto che di agricoltura perché effettivamente questo mondo è un mondo dall'alto valore aggiunto e gli italiani ce ne dobbiamo ricordare un po' di più, forse questa crisi ci sta mandando esattamente questi segnali, dobbiamo tornare un po' alle origini, eravamo andati forse troppo avanti. Il FAI certamente ha un ruolo importante, da qualche settimana c'è stata un'attenzione, una giornata mi pare nazionale proprio del FAI, quest'anno a fianco alle donne del vino per portare, lo chiedo a Francesca Fuccia che è la capodelegata di Napoli, per portare quale messaggio? Grazie, per la verità qualche mese fa abbiamo avuto le giornate FAI di primavera che sono un evento molto importante, un evento nazionale per cui abbiamo aperto diversi siti, ci hanno dato la possibilità appunto in alcuni siti abitualmente anche chiusi di poter accedere, quest'anno a Napoli con Villa Rosberry abbiamo avuto qualche migliaio di visitatori ed è stato un bel successo. Ma adesso veniamo alle donne del vino le quali ci hanno dato questa possibilità con Maria Ida Vallone di poterle affiancare in questo loro evento eccezionale perché in effetti loro raccoglieranno dei fondi che andranno a restaurare un'opera d'arte. Come sapete il FAI da decenni si occupa della salvaguardia e della tutela dei beni passeggistici e artistici, quindi per noi ovviamente è stato un invito che non abbiamo potuto far altro che accogliere con grande gioia, avere la possibilità di fare qualche cosa per la nostra città che abbia anche il riscontro dei 150 anni dell'Unità d'Italia, per noi è stata solo una gioia. Donatella Bernabò, ecco quanto è importante questi eventi, anche questi momenti che abbiano anche un momento di comunicazione perché si ha l'impressione spesso che nel nostro paese c'è tanto più di bello e anche di dinamico rispetto a quello che passa qualche volta nelle televisioni generaliste, quindi cosa possiamo fare per farci sentire ancora di più? Noi siamo qui a Castel dell'Ovo che è una delle location più emblematiche della città di Napoli. Castel dell'Ovo accoglie Vitigno Italia e il binomio vino-cultura non è un binomio nuovo, è il binomio però vincente, da cavalcare per i prossimi anni. L'Italia ha beni straordinari, storico-artistici e il vino se vogliamo è cultura e le donne del vino hanno capito questo binomio da tempo, da tempo Maria Ida Vallone che è produttrice con la sua azienda Villa Matilde ha da sempre legato la cultura del territorio con la cultura del vino. Le donne del vino continuano in questa strada che a mio avviso è quella più importante, ecco mi ricollego quindi anche alle parole del Ministro, sono sicuramente d'accordo di fare più che agricoltura, agricoltura. In questa direzione l'evento dei Sorsi di Lune abbraccia anche l'arte, abbraccia appunto, devolve il ricavato alla salvaguardia di un bene storico-artistico. Che dire di più? Credo che le donne diano anche un valore aggiunto a tutta questa strada e la TV deve servire a questo, a veicolare cultura, positività, creatività, fare, dalle location storiche alle risorse umane. Giussi Laurino mi sembra artefice di un'associazione che è anche molto provocatoria, la Fabbrica delle Arti, che ci ricorda che forse è la migliore difesa per il sistema Italia e ricordarci che molte arti da qui sono partite, qui sono state affinate, che non dobbiamo scimmiottare nessun modello di successo estero perché la forza ce l'abbiamo dentro. Infatti, la Fabbrica delle Arti è a sede nel centro storico di Napoli e nasce proprio con la volontà di far conoscere i mestieri, gli antichi mestieri anche rinnovati da linguaggi contemporanei perché non disdegniamo i linguaggi contemporanei e l'incontro di queste manifatture, di queste eccellenze che al sud in particolare ancora abbiamo con la cultura dell'arte e quindi con gli artisti che io invito in residenza anche artisti internazionali e anche i nostri artisti a soggiornare presso la Fabbrica delle Arti e a realizzare questi incontri per far uscire fuori dei prodotti di eccellenza che sicuramente non sono imitabili in tutte le parti del mondo e che ci possono veramente portare con la testa alta dappertutto e proprio Napoli, devo dire, è il luogo adatto forse per questo incontro e al di là delle negatività Napoli ha una stratificazione storica importante, una vitalità culturale e anche l'associazione delle donne del vino lo testimonia e noi siamo molto felici non solo dell'incontro io come donna con le donne del vino campane ma anche con questo settore dell'enogastronomia che veramente rappresenta una punta importante italiana e quindi poi in questo appuntamento dedicato all'Unità d'Italia vogliamo dedicare un segno particolare a un'edizione speciale di vino che le produttrici decideranno con un disegno di Moimi Tiesec e poi anche un inizio di altre collaborazioni nel campo artistico ma anche con il connubio con altre manifatture della Campania. Grazie. E a proposito di arte, prima si è detto un imprenditore vicino a questa manifestazione qualcuno ha detto, la collega prima, che ha proprio nel nome scritta forse anche questa collaborazione Ettore Regina. Ecco, l'arte orafa certamente in Italia ha grandi nomi importanti che hanno fatto scuola nel mondo ecco, come oggi si lavora in questo settore e come si fa ricerca? Quali sono, diciamo, gli ultimi ingredienti se ce ne sono di nuovi oppure quali sono quelli storici che vi consentono di difendervi ancora oggi nel mondo? Sì, grazie. Allora, io sono discendente da una famiglia di cultori dell'arte del bello insomma, la voglia, la volontà è stata quella proprio di declinare il senso estetico anche nella tradizione orafa se vogliamo abbiamo in realtà ripreso il simbolo proprio della donna che è la corona ovvero la corona che fa Regina ogni donna e l'abbiamo poi disegnato in una tridimensionalità diciamo abbiamo dato alla corona una forma tridimensionale perché è proprio questo quello che oggi gioca e gioca un ruolo fondamentale oggi nella tradizione orafa, ovvero la tridimensionalità e il disegno la novità in quanto comunque le donne oggi sono sempre alla ricerca di nuove forme e di un nuovo senso estetico durante la serata, anzi ringrazio le Maria Ida Vallone e Donatella Bernardo Passilorato per questa grande opportunità è il primo grande evento al quale noi partecipiamo e dove emerge il brand Ettore Regina e incoroneremo, se vogliamo, la vincitrice del premio Donne del Fare con il grappolo della Regina questo gioiello che abbiamo disegnato insieme anche alla mia designer Stefania Laporta e sarà proprio il particolare della corona che incoronerà questo grappolo d'uva e speriamo di avere tante tante madrine e ringrazio per questo evento, per avere tante madrine e per questo nuovo progetto una provocazione a Paolo Esposito che è direttore di Santander Private Banking ecco, è la forza delle donne, lei prima ha detto noi normalmente sponsorizziamo la Ferrari, un po' di golf questa volta però ci siamo avvicinati a questo settore dico, le donne in questo sono molto convincenti, è la loro forza che vi ha convinto a sposare il mondo del vino? Bello, ringrazio della domanda Santander è molto nota forse come sponsor della Ferrari come dicevo prima ma è un gruppo leader mondiale, prima banca europea dell'area euro ma è anche una banca molto attenta al mondo femminile molto attenta al mondo femminile e anche dell'arte nella nostra direzione centrale ad esempio molte donne ricoprono parecchi ruoli apicali tant'è che mi auguro di riuscire a portarne una collega giù per un intervento sull'evoluzione della donna e della banca come dicevo prima ed è molto attenta anche al mondo dell'arte, della cultura e le nocastroni miei culture alte tant'è vero che uno dei più importanti musei di arte contemporanea è il museo Santander che ospita ed è una location di espositiva molto importante per cui ecco veramente con piacere che pur essendo noi diciamo presenti quasi esclusivamente nei mondi come diceva lei delle corse del Gran Premio del Golf abbiamo sposato con grande piacere l'onore che la dottoressa Vallone ci ha fatto di poter abbinare il nostro nome ad un'eccellenza che è quella dell'eccellenza del vino e delle donne del vino direi che tra l'altro siamo molto attenti anche all'eccellenza perché appunto vogliamo essere e siamo gruppo leader e quindi eccellente e poi il private banking è l'eccellenza nell'ambito della banca chiuderei giusto con Maria Ida a Vallone per dire insomma siete 700 in tutta Italia 60 mi pare in Campania ma questo modulo che sta dando buoni risultati nel mondo del vino potrebbe essere esportato in qualche modo anche in altri settori e mostrare ecco che questa capacità delle donne di fare rete, di fare squadra e di incidere sul tessuto può in qualche modo contribuire anche in altri settori insomma dal vino a tutto il resto? Io me lo auguro la donna ha dimostrato e non da un giorno di avere una capacità spiccata nel lavorare in squadra, nel poter essere propositiva e risolutiva dei problemi senza nessun tipo di preconcetto di conseguenza l'augurio che chiaramente tutte noi donne ci dobbiamo fare è che da questo settore vitivinicolo dove abbiamo dato un segno proprio marcato e tangibile della capacità lavorativa che abbiamo dato si possa esportare in altri settori Bene, con questo augurio è davvero tutto da Napoli almeno per questo momento abbiamo conosciuto anche qui il dinamismo dicevamo delle donne del vino io vi invito a seguire vinitalia.tv che ha fatto una scelta di nicchia però l'abbiamo detto all'inizio siamo entrati in questo mondo come gruppo perché abbiamo capito che nel mondo del vino c'è molto di più e che proprio in una bottiglia di vino per così dire c'è molto di quella che è la storia e di quella che è la cultura italiana quindi seguiteci, è un modo per avvicinarsi al vino ma è un modo per capire anche di più qual è la vera forza italiana grazie a tutti grazie a tutti